Ho preso la cassa di munizio e ce l'ho di protezioni La cassa munizio, eh io c'ho lo shopmobile però Ho trovato un potenziale Oppure tira quella di protezioni Tira quella di protezioni, mi serve Atterrato col coglione Vai La camisa tira, quelli di effetto La messa là Finchia raga, abbiamo tantissimi soldi Siamo ricchi sfondati Morta questa che sta sparando Cioè sia da bio che da decon Ci hanno sparati, eh E anche da prison ci stanno iniziando a sparare Atterrato colo a prison No ragazzi, devo scappar via subito io Porca droga, che casino Manca a Kiev e c'è tutto sto casino Bravo Nico Arrivo In che piano siete sotto Raga dove dobbiamo salire, eh Ve lo dico Dovete prenderlo da Eh io mi ammazzo sai Morta a lui Bastardo infame Ma veramente ma devastato Però il tuo codone non si può Eh voglio ma che cazzo di arma usi Per far rientrare gli altri Porco due corazze tolta col coglione di merda Colpiscono Morta a lui A dove Grazie tolta Sì mi diverto col pompa Mi colpisce Che problema c'è tu col cecchino A terra un altro Godo Sono pugliesi questi mi sa Raga mi sa che sono pugliesi C'ho questa sensazione Raga dai Forza che li passiamo Questi li passiamo Rega Ma guardate A me lo ha spunato Ma spunato a bio weapon Ecco l'altro È come tua madre Kola puttana Godo Saperli imparati D'unno Saperli imparati Saperli imparati Quel coglione di merda Gli venisse il cancro Un tumore in testa No da dove Questo Da davanti Non ci credo Fa attenzione Ma vedete Quel coglione di merda Ma muori Ragazzi Stando tuttano di gente qua Ve lo dico Haga occhio davanti no ragazza con l'armaposizione lega voi sparate risparate basso risparate motoresso io dovete solamente spararli e sparati su quello dovete fare registrarli ok perfetto basta 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 posso posso no raga questi costi di vita dai tra ieri da un altro po dai 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 tra ieri da un altro pochetto così sei più felice dai dai senza vita sociale vai vai sei bravo cazzo sei forte amico però quello là dentro forse si autori anima dentro dentro la casetta del pochettino non è molto morti ma nient'altro ha avvitato posso azione come merda ora che abbiamo lasciato le mie doppie pistole dove sparano messi o no non li ho mai visti quattordici metri sa qua sotto lo fa ma è atterrato a posto o qua c'è ragazza mi sei quanti qui c'è un bersaglio stile devono andare in seguito ragazza sono stati soldi datemi soldi datemi soldi subito anche tu alle veloce 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 c'è niente non lo so lo so ve l'ho chiesto di fretta per suo motivo dove stanno quelli altrimenti anche le piastre a 1 che conoscevano l'alizio dove l'altro dove l'ultimo sto tentando perché fai di tutto io non riesco a fare una minchia e palle è l'ultimo è l'ultimo bersaglio dai dove cazzo sta merda attacca grappolo su tecone perché vincete perché non me non me va bene non me va bene no ale stai zitto però finisci finisci bravissimo con po bravissimo l'unica volta in questi stati importanti sono no io ho fatto un dici che non fate quella che lì con la collatera col bombardamento è stata fantastica ma alessia sei una donzella tua madre troia ecco via la donzella tua madre go dobbiamo anche deve essere un team italiani ci godo sugare nabili del cazzo no la donzella la di sua madre ecco chi col pompa d'oro tocco d'oro d'eccellenza proprio gg ragazzi bravissimo quel di merda l'avevo tipo devastato fuoco l'ha finito e stanno qua fra non pusha non pusha che c'è già stanno sotto non sono sotto non vieni qua ti aspetto però posso capire sono tutti i due sotto la stanno a terra bravissimo versa l'altro non è quello che accompagna però è sicuro o due merda è il compagno porca della sua troia eccolo sto figliaccio di puttana mori passato stop dog di merda no ci è successo ma questo è la re 9 0 a questo la re 9 0 gli ho scuogliati si due hanno preso la torretta sono giù mi sa o su un'idea è non idea se hanno fatto la torretta allora stanno tutti merda non l'ho devastato mica la madonna a gesù cristo siamo me lo so fatto io e modulo si è fatto tutto il team 25 metri davanti a quale c'è sopra c'è un altro sentito coltello non c'è non era sopra mi sa che era sotto la torretta aspetta vai via 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 no ok no ma non ci sta davanti ma davanti il coglielmo finalmente potremmo iniziando in safe perché quando lo dico io ho dal quad dal quad ho visto una foto pure io pure io pure io stanno salendo su e quindi è tedesco se sta incazzando una belva dove merda dove ecco la giu merda bravissimo c'è un arco cazzo aveva avanzato porco due di 6 metri si di scinto un vetro spaccarsi dove la terra posso dove l'altro merda ecco dove l'altro ecco dove a posto è morta ok io sono in urgenza ecco c'è uno che sa vola grazie a volte a lui posto sef non faccio un'asta ecco il coglielmo giu merda praticamente morto ci sono una fermata un altro tedesco mi sa che era questo occhio dietro non so ma no non abbiamo nessuno dietro tutti avanti sanno non vuoi non mi dispiacerebbe mai c'è un bombarda io per questo che è pure ma io ma quanti siamo in cazzo giocano che camperano così santo iddio no invece stanno sulla torre laggiù lo sapevo lo sapevo che il figlio di puttana stava lì atterrato quel coglione di merda nel bombarda del 94 quel disoccupato di merda del 94 ma ho sentito un res qua sotto ma stanno questi 47 metri a cinque è morto quello che c'è davanti a me domani ma come ho fatto ma come ho fatto ha detto così fatti corso a te indio cane quasi a terra cg 7 kg prima partita insieme easy win e non parla tanto no ma quello lì nello spiegelo come abbiamo vinto era un po parte di team di colpio di puttana era faceva parte di colori del disoccupato sti coglioni di merda come ha fatto con il pompa ecco come ho fatto testa di cazzo edz r90 is the best pump in this world proprio edz